Non c'era materiale d'archivio sul personaggio di Lorenzo, per questo abbiamo deciso di raccontare il personaggio attraverso i ricordi delle persone che avevano conosciuto e poi dando forma a quei ricordi facendolo diventare delle sequenze di fiction. La prima proiezione pubblica era una piazza con più di 600 persone, alla fine della proiezione c'era un silenzio, nessuno voleva prendere la parola tra il pubblico, eravamo un po' imbarazzati perché non avevamo ben capito quale potesse essere la reazione. Poi ha preso la parola un uomo di mezza età e con la voce rotta dall'emozione ci ha detto io mi faccio interprete di tutta questa piazza, noi non abbiamo nulla da dirvi perché ci avete regalato un'emozione e quando si è emozionati non si riesce a parlare, quindi più di questo.